Cupido 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 Forza! Piano, piano... Ah! Chiudalosi! Ehi! Forza! Muoviti! Piano... Watch out. Uuh! No! No... Uh... Sì, sì. Sì, sì, sì. Che cosa volete da me? Oh, dear. I hope it's safer, baby. It's open. Questo è... Inappropriato. Quite hot. I wonder what that's about. Looks like travel is brewing. I know... So, sapevo che era una pessima. No, 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 no. Oh, come on, dico. Oh, come on, dico. Oh, come on, dico. Venite con me. Oh, no, aiuto. Cazzo. Oh, santo cielo. Cosa è la policia? There's been a robbery. Ci noteranno di certo. Non avete alcuna speranza. Non ho soldi, sapete? Forza! Non ottenete nulla. Se il vostro scopo è il traccio, vedete l'aro? No! Perché lo state facendo? Non vedete nulla. Non posso proprio convincervi. Più veloce! Sì. 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 Cosa volete, da me? Sì. 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 Aiuto! Sono stata rapita! Slegana, criminale! Vi salverò io, signora. Perché io sono John Hammond, vostro fidanzato. Che cos'è? Vanguard! Vanguard! Prendete questa, furfante! Sì. Sì. La pagherete! Sì. Stati dentro! Prendete questa, furfante! La pagherete, cara! Io sono il più forte! Prendete questa, furfante! La pagherete, cara! Io sono il più forte! Prendete questa, furfante! La pagherete, cara! Una fortunata coincidenza che vi trovaste proprio qui! N'è vero? E se lo vorrete, mia cara bella, da oggi in poi starò sempre al vostro fianco per proteggervi. Venite, cara! Lasciamo questo orrendo posto, così vi spiegherò tutto! Di certo, Dickens e Darwin gradiranno sapere degli atto fine della vicenda. Muoviti! Tutto è bene ciò che finisce bene. I giovani innamorati presto si uniranno in matrimonio. Spero proprio di incontrare un uomo che si finga morto e poi mi faccia rapire solo per mettermi alla prova. Sembra che vi abbia già conquistato. Devo dire che è stato emozionante. Adoro questo genere di storia. Eppure mi ricorda qualcosa. Chissà come mai. Prendiamo a John Hammond e al suo corteggiamento assai originale. Già, a John Hammond, al nostro amico comune.